un cordiale buon pomeriggio ma una soprattutto una buona domenica è arrivato anche Pachi un po' in ritardo però lo accettiamo solo femmine di due anni sul miglio sono in dieci otto in prima due in seconda Pachi è uno dei gemelli diversi che ci fa sempre compagnia qui all'ippodromo Zara Romeo Gallucci lei è la più gettonata allineamento che va a completarsi a ritrata Zanzibar Fii numero 8 più arretratissima Zamagal numero 6 tutto sommato buono allineamento Genobia Gall dal centro subito alle prese con Zara poi di dentro Zietta e Zina Jett le cavallee affrontano la piegata punterà in avanti Gallucci si va al completamento del lancio sostanzioso in 14 un battito e gradatamente la Zara sopravanza l'avversaria e la Quakerjet di casa Finetti Gallucci al comando si completa il quarto iniziale nell'ordine del 29 8 e Zara amministra già i birilli da favorita ora può portare dalla sua parte il cronometro si Zamagal di galoppo finisce tra gli strali della giuria si migliora Zina Jett 44 e 7 da 1 14 e mezzo tutto sommato l'andatura è brillante 1 e 66 la chiusura in al totalizzatore della Quakerjet si forma una seconda fila a largo Zara amministra i birilli completa il mezzo miglio in 1 e 1 spaccato da 16 3 la frazione impiegata e per il momento non si lascia avvicinare Genobia Gall e Zietta Jett seguono la Zara si completa il chilometro nell'ordine del 16 1 15 1 di frazione si affaccia la cavalla di Saverio Gallo la Jett Zietta che va a far pariglia con Genobia Gallo Zara in vantaggio 400 alla meta un 14 9 fanno 1 e 31 i tre quarti di miglio allunga Zara mantiene il comando cerca la Zarina Daniel ma ha trovato un po' di traffico e anche stappata retta d'arrivo sbanda un po' ma ritorna in careggiata la Zara che allunga Zara in vantaggio sgabbia Genobia Gallo ma Zara ancora al comando ci prova piccione le cavalle sono in zona traguardo non c'è più tempo la Zara si afferma ancora bene 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 2 1 e 7 14 e mezzo la chiusa 1 16 1 cost to cost raffinata di questa Quakerjet Finetti al training Coppanigo l'allevamento Folli lo conosciamo tutti di proprietà si afferma a quota di 1 66 per il secondo sono vicino molto le due attendiamo il giudice d'arrivo ma non ci sono problemi per la vittoria che va a Zara linea lo studio